Ciao amici di Low Peels e la legge per tutti. In questo video, visto il periodo dell'anno e anche il clima, parleremo dell'obbligo di dotarsi di gomme da neve oppure di viaggiare con le catene da neve a bordo. Infatti dal 2010 il Ministero dei Trasporti ha esteso in tutta Italia questo obbligo che a partire dalle date del 15 novembre di ciascun anno e sino al 15 aprile, il cosiddetto semestre invernale. L'obbligo in realtà vige per le strade fuori dai centri abitati, quindi le provinciali, le statali e soprattutto le autostrade, però ciascun singolo comune può adottare anche al loro interno appunto quest'obbligo. L'unica prescrizione che ha il comune è quello di esporre il cartello. Le gomme da neve sappiamo tutti che cosa sono, devono essere quelle con il marchio cosiddetto M più S che in inglese sta per mud and snow, ossia fango e neve e le sanzioni se veniamo colti alla guida con gomme non invernali, se veniamo colti in un centro abitato abbiamo la sanzione amministrativa, la multa da 41 a 169 euro, nelle strade extraurbane invece la multa è da 85 a 338 euro, addirittura la forza pubblica può interrompere il nostro viaggio, obbligarci a dotarci delle prescrizioni di sicurezza che sono necessarie per continuare a viaggiare in inverno e decurtare tre punti della patente. Che dire, dotiamoci tutti e adeguiamoci perché ovviamente la razio di questa normativa è una razio tesa alla salvaguardia appunto di tutti quanti per la sicurezza stradale. Buon inverno, Low Peel.